Nuove coordinate in arrivo Ci seguirebbero delle... No, io c'ho la cassa di corazza Guardate questo Voglio addosso Ucciso Ma come? Mi sta avvicinando, che già fa? A me è la data Spostarsi in questo punto Mi sta avvicinando, che già fa? Viagli ci riesce a raggiungere Certo, certo Sto arrivando C'è un meccanico, fatti portare la gente Un po' C'è un po' C'è una cassa di scudi, per favore Ha avvicinato Ha avvicinato